terza corsa di Palermo in pista e gentleman alla guida di anziani di categoria F7 allo start 5 a 20 metri e il quarto tentativo speriamo che sia quello giusto si parte e si parte stavolta viene data la partenza come Valvia nonostante il secondo nastro sia partito praticamente alla pari dal primo e ne ha tratto giovamento soprattutto Indugget che praticamente all'imbocco della prima curva si trova già in terza ruota sui cavalli di testa vediamo un po' se Rosolino Giudice proverà o meno l'azione di sfondamento in avanti comunque è andata Nikla nei confronti del numero 5 di Paola Alter ripiega in terza posizione Indugget precedendo Igor Stravischi più indietro Matrix Mar mentre dal secondo nastro il più appoggiato al gioco che era Oreste Caffer non è riuscito a partire bene come i suoi due antagonisti Indugget che adesso si trova terzo ed Igor Stravischi che si trova in quarta posizione comunque risale adesso Oreste Caffer raggiunge la quinta posizione dunque i cavalli stanno percorrendo la curva delle scuderie sono stati percorsi circa 700 metri di corsa in testa c'è la favorita Nikla che precede Paola Alter poi Indugget in quarta posizione Igor Stravischi con Salvatore Pampilonia che decide di rompere gli indugi e di andare in avanscoperta per linee esterne Nikla nel frattempo sta menando la danza in maniera tutto sommato abbastanza tranquilla comunque 17 il primo chilometro per la cavalla guidata da Antonio Giannola che precede Paola Alter, Igor Stravischi poi Indugget e Oreste Caff affiancati i cavalli stanno transitando sulla curva di destra con Nikla che sta per affrontare la retta delle tribune già con un buon vantaggio nei confronti di Paola Alter mentre dà l'impressione di avere esaurito il meglio dei propri argomenti Igor Stravischi più indietro prova adesso la terza ruota Oreste Caff e sembra farlo con una buona incisività nel frattempo viene percorso il primo miglio miglio che comunque Nikla raggiunge in un notevole 2-1 e mezzo quindi sta andando davvero forte Nikla da 1-16 anche scarsi quindi davvero proibitivo per i penalizzati andarla a prendere ci prova Oreste Caff che è emerso in seconda posizione ma deve difendersi adesso da Indugget nel frattempo Nikla ha guadagnato un margine incolmabile e conclude al piccolo trotto chiara vincitrice nei confronti di Indugget e di Oreste Caff vittoria dunque di Nikla che ha chiuso da favorita 3-39 la quota in sediolo Antonio Giannola i colori sono quelli dello stesso Antonio Giannola il training di Francesca Croce secondo posto per un giudizioso Indugget che alla fine è prevalso chiaramente su Oreste Caff dunque in numeri 4-12-11 l'ordine d'arrivo ancora ufficioso della terza corsa di Palermo